Gentili telespettatori ben trovati per il gran gala finale parte seconda per quanto riguarda YMTV Festival questa sera ancora tanti ospiti tante premiazioni come di consueto saluto subito la mia compagna di viaggio Agnese Mandetta ben trovata Agnese ciao Gianni grazie e allora a te il compito di salutare i nostri ospiti prego ok oggi salutiamo e onoriamo Ruxandra Pilsio Jacob Woodward e Antonello Tosto e Maria Pia di Lecce Andrew Lauto benissimo allora la scorsa volta abbiamo premiato i lungometraggi e i cortometraggi questa volta tocca ai documentari e alle altre sezioni siamo tutti pronti insomma per vedere il primo eh video e attendiamo subito dalla regia eh il risultato eccoci qua allora complimenti Quiet Healing allora c'è insieme a noi il regista Andrew Lauto e eh l'editing la persona che si è occupato dell'editing che ehm e coscrittore e coscrittore e coscrittore esatto che è eh Jacob Woodward ben trovati ragazzi ok welcome everybody congratulations congratulations for your win thank you bene allora prima di eh fare eh l'intervento io regola motivazione ok un racconto avvincente un'avventura corale ricca di emozioni e significati una scoperta continua di sentimenti e nel segno dell'amore tra l'uomo e gli animali complimenti bellissima 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 ok ok so um Gianni commented on his he he gave his impressions his comments about the Quiet Healing and he was very moved by it so he wrote down a few words about it I'm going to translate the best I can all right so best documentary the Quiet Healing and it's a compelling story a coral adventure full of deep meaning that celebrates the great love and support between man a wounded warrior and he's too splendid oh god I'm a I'm a little bit moved sorry about that service dogs so we were very very moved by toby's story and the amazing work this wonderful animals to for us well deserved award guys thank you so much thank you thank you so much it was an absolute honor to uh to make the film and to tell toby's story and and it and it just uh to to see how the the story is is reaching so many people uh now across the world is just is really humbling and I and I know I couldn't have done it without uh Jake and um and also Dave who is our cinematographer as well and then of course toby and the dogs as well um so just thank you so much for this honor and I know uh Jake probably has a few words to say too yeah I uh I want to say just again thank you so much for for choosing our film for this uh and we're we're floored and we're we're honored that you chose us for the for the winning category for this and I uh you know Andrew thanked all of us and I wanted to send a special thanks to um to some of the people behind the scenes who helped make the film happen to our musicians uh and our animators and some of the other people who just support us like our families and our friends you know we we didn't really have a budget to make this film but we did the best we could and it we had a great support group and it's just been wonderful to see how this movie has grown so again thank you so much it's so evident that it's a labor of love it it turns smart transpires from from you know the the screen so don't worry about the budget when something is good it's good and that's it okay let me translate for johnny guys thank you allora johnny sono onoratissimi per aver ricevuto il nostro premio per le tue splendide parole e quindi vogliono ringraziare non solo le persone che vi hanno aiutati a creare questa questa cosa questo bel documentario ma anche eh le persone che insomma hanno dato loro supporto poi dietro le le quinte ed anche in famiglia quindi sono tutti molto contenti e molto onorati per avere ricevuto il nostro premio molto bene allora eh continuiamo dunque con le premiazioni e vediamo chi sarà il prossimo allora complimenti per questa menzione speciale a ruxandra pilsiu ruxandra pilsiu ruxandra complimenti ti leggo subito la menzione speciale thank you thank you very much i'm uh it's a pleasure for me especially i was uh very happy to have the chance to uh to show this uh this video in italy my my documentary to be shown on screen and on tv on italy and uh my whole team was uh was in front of the of the screens on the computer so uh we uh we watched uh we watched uh the the program that evening and we are very happy that uh finally after uh so so much work our uh our movie was uh was seen uh in italy and not not only in italy because uh um we did online uh festival we could share the the links uh a lot of uh friends and family from uh from uh all over the world could uh could see the scene the 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 video so which is uh i think this is uh the the online festival finally it's uh it's a very good uh opportunity to 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 see the movies uh all over the world so uh finally it's a very uh it's a very good chance to see the movies of each other even if you are not uh present there so thank you again it's our pleasure la menzione speciale un attimo che volevo leggerla quindi ascolta un secondo allora per come ha saputo raccontare un luogo e la sua comunità con efficace narrazione poetica e convincente naturalezza so ruxandra the words johnny wrote about uh our impressions of your wonderful documentary will be shown online too so we will you know um all the work for that we have awarded and honored will be mentioned online and so what we are telling you today uh live here we are going to write it also on our social platforms and um johnny is very very much followed his channel is very much followed by italo americans so we are present in 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 the us so uh lots of italian families follow from there and so this is a nice platform for for you all you know to 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 be seen all around the world but also in the states and what johnny brought for the both of us is uh that ruxandra has given voice to a place and its people in a natural albeit poetic way so beautiful congratulations thank you okay johnny lei è molto molto grata ci ha spiegato prima che ha condiviso con non solo hanno visto il film il giorno in cui è stato proiettato su su cilento channel ma addirittura ha condiviso e link con tantissime persone che conosce intorno al mondo quindi hanno visto tante persone il documentario viscri sul nostro cilento channel quindi siamo molto molto orgogliosi thank you ruxandra thank you thank you thank you to you too molto contenti benissimo allora ancora un una menzione vediamo di chi si tratta adesso congratulations quindi stavolta lo dico in inglese ai nostri amici italiani congratulazioni ragazzi pubblicatelo sto vals naiv condividiamolo così lo possono vedere anche i nostri amici di oltreoceano ok pubblicatelo anche sul linkedin allora vals naiv che è stato realizzato da antonello tosto e maria pia di lecce leggiamo la motivazione in un contesto privo di attori il linguaggio dell'animazione e la musica rappresentano la potenza comunicativa dell'opera notevoli le dinamiche del sonoro complimenti fantastico bravissimi ragazzi è bellissimo bellissimo all right so vals naiv is a an animation it's mainly music it's it's you know the music antonello has written and uh maria pia has created the images and um it's really 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 nice guys so johnny's words and and my thoughts are uh um in a context devoid of actors the language of animation and music represent the communicative power of the work the dynamics of the sound are remarkable so there is a kind of choreography but it's it's really really nice so i highly recommend it so congratulations to everyone your words are outstanding ragazzi dai e quando si vede il talento si vede allora il commento di antonello e maria pia sì cose di questo genere ci spingono a fare di più a creare ancora e cercare di migliorarci creare qualcosa di nuovo e e migliore c'è siamo contenti che vi sia piaciuto e ci abbiate fatto una menzione speciale davvero sì al torello ma sei emozionato sì sì si vede si nota si nota sono contento pure perché è l'unico premio italiano che abbiamo eh insomma divulgato dato a nel nostro festival quindi siamo soddisfatti che insomma almeno ci siano degli italiani perché davvero è stato complesso insomma giudicare un po tutti i lavori e prego prego maria pia sì dicevo siamo stati davvero contenti di aver partecipato a questo festival anche perché abbiamo avuto modo di vedere altri lavori di conoscere voi è stato veramente veramente bello ci fa molto piacere ci fa molto molto piacere stiamo in contatto ok stiamo tutti in contatto non non ci perdiamo di vista perché sono sicura che riusciremo a fare delle bellissime cose insieme a Gianni eh gli uni con gli altri riusciremo a collaborare non necessariamente c'è bisogno di inseguire queste grandi chimere basta fare la rivoluzione una persona alla volta è vero no? Ok ok Gianni a te la parola. Bene allora anche quest'altra eh quest'altro appuntamento giunge al termine noi siamo contentissimi di aver premiato altrettanti artisti che eh promettono molto bene nel mondo del cinema quindi noi ci auguriamo di essere stati magari eh i promotori la spinta diciamo divulgativa no? Di questi ragazzi e l'appuntamento è rinnovata una prossima edizione Agnese vuoi salutarli tutti anche tu? Sì uh we say goodbye for now but we are waiting for your next works in our next festivals we won't stop um creating festivals film festivals documentary festivals please follow us on our social platforms because we have just started so we will keep on doing this under different names but we will try to create culture to create a new movement you know to show nice interesting work yeah let's kill television guys I'm joking but yes yes I'm not okay so thank you so much thank you so much everybody thank you everybody okay see you soon okay let's stay in contact all right bye bye everybody goodbye thank you so much for participating bye bye